Grazie a tutti. Una serie di incidenti in contemporanea, a pochi metri di distanza l'uno dall'altro e indipendenti tra di loro. La galleria è stata poi riaperta attorno alle 8.40, una volta ultimati i rilievi. All'interno della galleria teatro in passato di numerosi incidenti in attesa da anni di un intervento di ristrutturazione è avvenuto un tamponamento tra tre auto che non avrebbe causato feriti, solo disagi alla circolazione è rimasta bloccata. Nello stesso momento all'esterno in via salata sono entrati in collisione un'auto e uno scooter e il conducente del mezzo a due ruote è rimasto ferito anche se dalle prime informazioni raccolte le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto oltre ai sanitari del 118 sono intervenuti i vigili urbani per i rilievi e la regolazione del traffico che ha subito anche dei pesanti disagi. La galleria, ripetiamo, è stata chiusa dopo le ore 8 in entrambi i sensi di marcia per una quarantina di minuti. È arrivato nella pineta di Barcola, sempre a Trieste, si è tolto pantaloni e mutande e ha iniziato a barcollare tra gli alberi e il lungomare creando non poco scompiglio tra le tante famiglie triestine presenti, tra cui molti bambini che si sono trovati davanti l'uomo completamente nudo e ubriaco. Accanto agli indumenti a terra c'era una bottiglia di gin completamente svuotata. È accaduto sul lungomare triestino dove sono intervenute due pattuglie dei carabinieri di Aurisina che hanno cercato di far rinsavire l'uomo e convincerlo a rivestirsi. Quando i militari hanno cercato di avvicinarli per farlo coprire, però, l'uomo ha iniziato ad aggredirli con spintoni, calci e sputi, motivo per cui i carabinieri sono stati costretti a immobilizzarlo e trarlo in arresto. Due carabinieri sono stati medicati al pronto soccorso per i colpi ricevuti, riportando lesioni lievissime, mentre il barcollante nudista, un cittadino libico di 33 anni richiedendo protezione internazionale, è stato condotto al carcere del coroneo secondo le prescrizioni del PM di turno, subito informato dell'accaduto. L'uomo dovrà ora rispondere di reati di violenza e resistenza pubblico ufficiale, oltre che di atti osceni ed ubriachezza. Tre persone sono state soccorse in mare a largo del litorale di Jesolo, dall'unità navale del reparto operativo aereo navale della Guardia di Finanza di Venezia. Le tre persone in acqua a causa del mare molto mosso e le correnti marine molto forti, ormai allo stremo delle forze, non erano più in grado di tornare sulla bagnasciuga. In prossimità dell'imboccatura del porto di Piave Vecchia, l'equipaggio del mezzo navale della stazione navale della Guardia di Finanza di Venezia ha notato i tre in difficoltà, riuscendo dopo svariate manovre a recuperarli. Uno dei ragazzi era intervenuto, quale addetto al soccorso di spiaggia, per soccorrere gli altri due che non riuscivano più a rientrare, ma alla fine tutti e tre erano rimasti in balia delle onde. Il tempestivo intervento della Guardia di Finanza ha garantito il salvataggio senza ulteriori conseguenze. I vigili del fuoco del comando provinciale di Trieste sono intervenuti con la prima partenza il personale specialistico del nucleo SAF, speleo alpino fluviale in località Borgo Grotta Gigante a Trieste, per il recupero di un cane caduto all'interno di una grotta. Il cane, un cocker spaniel maschio di 11 anni di nome Remi, era sparito ed è stato ritrovato dalla sua padrona, che l'ha sentito guaire all'interno della grotta VG216, a circa 10 metri di profondità. Per l'entrata in grotta i vigili del fuoco hanno usato le tecniche SAF, con un paranco all'esterno e con un imbrago specifico per il recupero di animali, molto provato, ma in buone condizioni, Remi è stato consegnato all'affetto della proprietaria. Lungo il canale di accesso a Grado, sospinto evidentemente dal mare piuttosto mosso, è stata notata nel pomeriggio di ieri la carcassa di un delfino. Gli uomini del gommone della guardia costiera di Circomare Grado lo hanno recuperato e trainato fino al molo torpediniere. è stato richiesto l'intervento del personale veterinario per cercare di capire quali possono essere le cause del decesso. Il delfino era lungo, oltre un metro. Sono 24.505 le richieste di contributo a fondo perdute giunte alla regione Friuli Venezia Giulia per un fabbisogno totale di 29 milioni di euro destinati ai titolari di attività economiche per il ristoro dei danni causati dall'emergenza Covid-19 e il bilancio del provvedimento messo in atto dalla giunta regionale illustrato dall'assessore alle attività produttive e turismo Sergio Emidio Bini alla seconda commissione consigliare. Come ha spiegato Bini, le contribuzioni a fondo perduto a sostegno delle attività economiche nel periodo del lockdown hanno riguardato prevalentemente due misure. Un primo intervento, ha riferito l'assessore, ha dato risposta a 5.000 domande di contributo a copertura del 20% del canone di locazione per attività commerciali e produttive. Tutti i contributi erogati su questa linea sono stati liquidati a maggio. Il secondo provvedimento invece riguarda 24.505 domande sui contributi a fondo perduto a favore di titolari di partite IVA. Come si era previsto, ha specificato Bini, le provvise si sono dimostrate sufficienti a garantire copertura e a tutte le richieste pervenuti. Cioè è stato possibile grazie all'incrocio puntuale di tutte le banche dati per stimare la platea dei possibili beneficiari. Allo stato attuale 29 milioni di euro di contributi da erogare. E' stata la linea marittima Grado Trieste, servizio estivo di TPL FWG fino a mercoledì 2 settembre, riattivata, possibile raggiungere le spiagge dell'isola d'oro o andare alla scoperta della città di Trieste anche portando a bordo la propria bicicletta. Lo ha risonoto la società di trasporti. Il servizio svolto con la motonave del Fino Verde Deluxe si effettua dal martedì alla domenica con due partenze giornaliere da Trieste e due da Grado. Previaggiare sulla motonave, ricorda TPL FWG, valgono le regole per l'accesso a tutti i mezzi di trasporto pubblico. Divieto di salire a bordo con sintomi di infezioni respiratorie acute o febbre, obbligo di indossare la mascherina e rispetto del distanziamento. In caso di condizioni meteorologiche o marine avverse che impediscono la partenza della motonave, il servizio è comunque garantito attraverso un autobus sostitutivo dotato di carrello portavici. Su bassa pianura e costa in Friuli Venezia Giulia oggi cielo in genere sereno, poco nuvoloso, in montagna variabile con rovesci sparsi, qualche temporale più probabile nel pomeriggio. Non è escluso qualche temporale anche in pianura, caldo, affoso in pianura dal pomeriggio, brezza sulla costa. Per la giornata di domani sulla costa, cielo poco nuvoloso con venti deboli di brezza, sul resto della regione variabile con possibili rovesci sparsi o temporali più frequenti in montagna e di pomeriggio, ma possibili anche in pianura. Dal pomeriggio caldo più affoso in pianura, possibile qualche temporale forte, dalla sera peggioramento anche sulla costa. Passiamo al Veneto, su pianura al mattino, andando da sud a nord, cielo da sereno poco nuvoloso, a poco parzialmente nuvoloso, dal pomeriggio andando dalla costa alla pedemontana, cielo da poco a parzialmente nuvoloso, a parzialmente nuvoloso, nuvoloso. In montagna alternanza di nuvolosità variabile, parziali rasserenamenti. Domani alternanza di nuvole e rasserenamenti, nelle ore notturne prevarà la nuvolosità, nelle ore diurne prevaranno le schiarite. Previsioni a cura di ARPA FWG Meteo e di ARPAV, Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto. Per il momento dal nord-est è tutto, appuntamento alla prossima edizione. Grazie. 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 Grazie.